Il cantiere chiuderà il 20 dicembre con oltre un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Per lavori in direzione Firenze, code tra Cascina e Pontedera Ovest-Ponsacco. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Corsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!